Allora, a me pare che sicuramente siamo di fronte a una nuova stagione di privatizzazioni, cioè come se il referendum del 2011 non fosse mai esistito, ma questo sin da subito perché la lettera della BCE già del 5 agosto del 2011 chiedeva allora la liberalizzazione dei servizi pubblici locali attraverso privatizzazioni su larga scala, poi c'era stato il decreto legge 138 del 2011 che all'articolo 4 riproponeva quella che era la disciplina dei servizi pubblici locali contenuta nell'articolo 23 bis abbrugato col referendum, anche se escludeva il servizio idrico. Si era espressa la Corte Costituzionale che aveva dichiarato in Costituzionale l'articolo 4 e poi le successive modifiche per palese violazione dell'articolo 75 e a questi sono seguiti poi nel corso degli anni dal 2011 svariati tentativi di privatizzazione, di liberalizzazione, di messa a profitto con interventi sulle tariffe, quotazioni in borsa, azioni a livello locale, penso anche alla legge sulla concorrenza. E da ultimo ricordo in particolar modo la legge 74 del 2023 che all'articolo 23 prevede al comma 2 bis la Costituzione della Società per Azioni denominata Acqua del Sud S.P.A., ma questo solo come un esempio. E poi su tutto questo adesso alleggia quello che è lo spettro dell'autonomia differenziata, con la frammentazione che comporta questo progetto, spezza proprio l'idea dell'acqua come diritto fondamentale come diritto universale, così come spezza l'idea dell'universalità e dell'eguaglianza in relazione a tutti i diritti, ma non solo, perché l'autonomia differenziata con la logica dei livelli essenziali, con la ripetizione ossessiva quasi come un mantra all'interno del disegno di legge Calderoli, dell'invarianza del bilancio, dell'equilibrio di bilancio, per cui i riferimenti anche alla preequazione, alla garanzia delle risorse necessarie per tutelare i livelli essenziali, pare mera retorica, alla luce di questo continuo riferimento ai vincoli di bilancio, per cui questo comporta senza dubbio uno svuotamento dei diritti, uno svuotamento dello Stato sociale che coinvolge anche quelli che sono servizi pubblici come l'acqua e porterà inevitabilmente ad un ulteriore processo di privatizzazione, perché si frammenta, si definanzia e si aprono nuovi mercati in questo modo per i privati e una minor garanzia dei diritti per i cittadini. Ecco, questo a me è pare uno stato dell'arte, uno stato che ci racconta di una lunga storia di privatizzazioni a partire proprio, tanto dopo quasi, lo svolgimento del referendum e oggi su tutto questo appunto questa spada di Damoc dell'autonomia differenziata che sta chiudendo il suo percorso. Ecco, noi siamo proprio in un periodo in cui sta mutando, secondo me, quella che è la nostra forma di Stato, a partire dalla democrazia sociale, ma anche per quanto riguarda la democrazia politica, cioè noi stiamo scivolando in quello che è un neoliberismo autoritario, io lo definirei così. Un neoliberismo autoritario che blinda attraverso una deriva autoritaria nella forma di governo, mi riferisco in questo caso al disegno di legge costituzionale sul premierato, che viaggia diciamo in concomitanza con quello sull'autonomia differenziata, ma mi riferisco anche alla repressione, alla criminalizzazione del dissenso che vediamo crescere ogni giorno. Penso da ultimo a quanto sta accadendo nelle università, a Napoli ad esempio, ma anche alla sapienza. Attraverso questa deriva autoritaria, attraverso la repressione del dissenso, viene blindato un modello centrato sul profitto, un modello che possiamo definire estrattivista, ma anche un modello che blinda questa cultura della guerra, che ha nel suo interno l'esaltazione dell'idea della forza, della dicotomia amico-nemico, che ben si sposa con quella che è una visione neoliberista, con la competitività, con la figura dell'homo economicus, in lotta contro tutti per il suo successo. Ecco un quadro questo, fosco, dove tornando all'acqua, emerge come anche l'acqua diventi sempre di più, oltre che oggetto di profitto, anche una vera e propria arma di guerra. E voglio ricordare, perché penso che sia un po' sempre nei pensieri di tutti, la Palestina, dove l'acqua è utilizzata in chiave coloniale, dalla costruzione del muro illegale, l'ha detto la Corte Internazionale di Giustizia in Cisgiordania, che esclude anche dall'accesso all'acqua, al dato che ci dice che gli israeliani, inclusi i coloni, hanno accesso a 300 litri d'acqua per giorno, mentre la media per la Cisgiordania è intorno ai 70 litri. Per non parlare di quella che è la mancanza di acqua a Gaza, e dall'utilizzo dell'acqua proprio come arma, in quello che, sempre mi riferisco alle parole della Corte Internazionale di Giustizia, è un genocidio, e quindi l'acqua utilizzata come vera e propria arma di guerra, e come arma nel genocidio. Ecco, questo è l'esistente, esistente, è senza dubbio un quadro molto fosco, però io proverei, come diceva Edoardo Galeano, a delirare per un ratito, cioè a provare a sognare, così delirare per un momento, e immaginare di trasformare quello che è l'esistente, a partire da un'utopia, che però è un'utopia concreta, che è quella della Costituzione, perché la Costituzione è legge fondamentale, al vertice del sistema delle fonti, e partire dall'idea del bene comune, e dalla sua intersecarsi con la Costituzione, e l'acqua è emblema del bene comune. La Costituzione impone di porre al centro la persona umana, i bisogni della persona umana, le sue esigenze, e si propone di eliminare quelli che sono gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscono il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione, sancisce i diritti sociali. Ecco, qui si inserisce il discorso dell'acqua come bene comune. I beni comuni, come si legge nella proposta della Commissione Rodotà, della Commissione sui beni pubblici, sono delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona. Cioè sono beni strettamente connessi, in un rapporto che possiamo definire di scopo utilizzo, ai diritti alla persona. Sono funzionali al pieno sviluppo della persona umana, articolo 3 della Costituzione, e in questo senso sono strettamente legati al concetto di uguaglianza formale, come pari di dignità sociale, ma anche sostanziale, cioè nella prospettiva della rimozione delle diseguaglianze economiche e sociali esistenti. Si inseriscono, cioè i beni comuni, in quello che è un percorso, un progetto di emancipazione, che è insieme personale e sociale. E sono coerenti e funzionali rispetto ad un percorso di liberazione. E sottolineo liberazione, non mera libertà. Perché la libertà da sola può limitarsi a riprodurre quella che è la situazione data, le posizioni di dominio, le oppressioni. Necessita la libertà di essere legata all'uguaglianza, alla giustizia sociale. Se vuole inserirsi, possiamo dire, nella storia, nel percorso dell'emancipazione, cioè dalla parte degli oppressi. Ancora, possiamo dire, la Costituzione disegna una democrazia che ha il suo cuore nella partecipazione effettiva e in questo il bene comune evoca una gestione partecipata, dal basso, in grado di restituire la titolarità diffusa propria del bene comune, ma anche in grado di legare le varie accezioni della partecipazione, che non a caso nella Costituzione sono tenute insieme, cioè partecipazione politica, economica e sociale. E' un richiamo, quindi, all'idea di una cittadinanza attiva, ad una democrazia viva, ad un concetto che a me piace molto, che è il concetto di democrazia insorgente, che rinvia all'idea di una mobilitazione continua, che ci ricorda che la democrazia non è uno strumento di gestione del potere, ma è partecipazione e conflitto, dove la sovranità, dice l'articolo 1 della Costituzione, appartiene al popolo, non emana semplicemente dal popolo. Ancora, un altro profilo, la nostra democrazia è una democrazia sociale, prevede una trasformazione della società e una redistribuzione della ricchezza. I beni comuni sono beni che appartengono a tutti, sono insieme di tutti e di ciascuno, cioè sono, cito rodotà, a titolarità diffusa, sono amministrati muovendo dal principio di solidarietà, sono a funzione collettiva, possiedono un'utilità generale, cioè sono contemporaneamente di una pluralità di persone, considerate in uno spazio temporale aperto, cioè nel presente e nel futuro. Non sono beni mercificabili, devono essere assicurati in maniera uguale, secondo i canoni dell'eguaglianza sostanziale, canoni che poi sono molto simili a quello che era il vecchio detto di Marx, cioè ciascuno secondo le sue possibilità a ciascuno secondo i suoi bisogni. Ancora, i beni comuni ci portano a ragionare di proprietà e gestione pubblica, comune, sociale, collettiva, cioè utilizzando variamente delle formule che garantiscono il possesso di tutti e di nessuno in esclusiva. Possiamo immaginare nazionalizzazioni, forme di proprietà collettiva da parte di comunità locale, di lavoratori, di colori che usufiscono di un servizio. Ecco, questo con una precisazione, perché c'è il rischio che il livello locale in generi delle diseguaglianze, come accade con il regionalismo e come potrà accadere con il regionalismo dell'autonomia differenziata, che è un'autonomia delle diseguaglianze e veicola un regionalismo di tipo competitivo e non solidale. Per cui occorre fare attenzione che si imponga non la logica delle comunità in senso egoistico, ma la logica del comune. O se si vuole ragionare di comunità, occorre ragionare di comunità umana, superando quelli che sono gli egoismi del regionalismo o più in senso più ampio gli egoismi sottesi alle frontiere. Ecco, tutto questo e di nuovo torno alla Costituzione, perché bene comune e Costituzione in questo senso si intersecano. Gli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione prevedono limiti, l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana, l'ambiente anche, e trattano di funzione sociale e di interesse generale in relazione alla libertà di iniziativa economica privata e alla proprietà. Poi ancora, l'articolo 43 prevede la possibilità di riservare o trasferire allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese. l'articolo 45 riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione a caratteri di mutualità, cioè ci sono nella Costituzione molteplici riferimenti che possono essere di appoggio alla logica, alla prospettiva del bene comune. Faccio una precisazione a proposito di comune e pubblico, perché io non ragionerei in questo senso di contrapposizione tra pubblico e comune, ma di sovrapposizione, perché il concetto di pubblico in una democrazia si coniuga con collettivo, cioè implica il superamento di un orizzonte escludente e l'innesso invece di principi come uguaglianza, solidarietà, condivisione, partecipazione, che rovesciano in questo modo la logica della proprietà come diseguaglianza, Rousseau insegna, fonte di accumulazione e fonte di ulteriori diseguaglianze, cioè il pubblico significa rifiuto della logica competitiva e meritocratica che pervade il neoliberismo e divora quelli che sono proprio i beni comuni e i servizi pubblici. Pubblico e comune in una democrazia che si fonda sull'uguaglianza, sulla partecipazione vengono a coincidere, non vi è contrapposizione, cioè quando lo Stato siamo noi, il comune e anche siamo noi c'è questa sovrapposizione, non una contrapposizione. Lo Stato, le istituzioni pubbliche, si può abietare però a questo discorso, perseguono politiche neoliberiste, questo è senza dubbio vero. l'idea dell'agenda Draghi resta invariata e ha avuto nel corso degli anni appoggi multipartisan, cioè noi assistiamo ad un sistema politico sempre più convergente intorno a quello che è un modello neoliberista. Questo senza dubbio è vero ed è vero che lo Stato e le istituzioni pubbliche perseguono in questo momento questo disegno, ma noi dobbiamo porci a questo, cioè dobbiamo lottare perché questo non accada, recuperare un pubblico che sia coerente con l'orizzonte costituzionale, cioè con quei principi che richiamavo prima, uguaglianza, solidarietà, condivisione, partecipazione. La Costituzione in questa lotta possiamo dire ci è compagna. vengo a chiudere. L'acqua come bene comune ci racconta di fronte a questo quadro fosco che ho delineato all'inizio di privatizzazioni, di neoliberismo autoritario, di guerra, di guerra dal punto di vista materiale all'orizzonte, ma anche guerra come diciamo clima bellico, culturale. Ecco, di fronte a questo quadro l'acqua come bene comune ci racconta di un'alternativa possibile che è coerente con quello che si può definire il realismo emancipante della Costituzione. Cioè si parte dalla realtà, dal fatto per trasformarlo. E questo è il senso secondo me di quel bellissimo slogan che probabilmente avrete ricordato anche prima ma come dicevo non ho sentito che dice si scrive acqua si legge democrazia con una precisazione che quando ragioniamo di democrazia noi ragioniamo di una democrazia che si accompagna ad alcuni aggettivi e la nostra è una democrazia sociale esigente effettiva conflittuale per cui non rassegniamoci diciamo alle privatizzazioni non rassegniamoci alla logica dell'autonomia differenziata che si sta prospettando e proprio per chiudere voglio citare visto che siamo in prossimità del 25 aprile le parole di un professore partigiano e antifascista che era Gastone Cottino recentemente scomparso che ci ha consegnato queste parole in uno dei suoi ultimi interventi in un'assemblea pubblica lui ha detto non arrendetevi mai e qui lo trasforma in un non arrendiamoci mai ma continuiamo in questo senso la battaglia per l'acqua può essere emblematica di tante battaglie per un certo tipo di democrazia